Gentili telespettatori, buona giornata. Chi voterebbe oggi quale nuovo sindaco di Bologna nel sondaggio? Viene chiesto da Demopolis per Bologna Today. Il candidato del centro-sinistra Matteo Lepore è tra il 46 e il 52%, mentre il candidato del centro-destra Fabio Battistini è tra il 33 e il 39%. C'è una differenza di 13 punti percentuali. Gli altri candidati messi insieme avrebbero tra il 12 e il 18%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra poco per un altro video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.